Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel nostro primo video su Roblox! E oggi stiamo giocando a Brookhaven, allora, guardate, questa è già cambiata, e lei? Lei sono io, sì, allora, adesso dove possiamo andare? Lo so, a prendere una casa ovviamente nuova, a prendere una casa ovviamente nuova Io la compro, ciao! No, no, viene comprata! Ma no! Ma no! Allora, facciamo una cosa, fermati! Chiusa! No! Non è tua! Fermati, stai lì, ferma, che io arrivo da te perché tu sei da qui! Dai Vanni! Allora, ah, eccoti! Allora! Vanni, vieni dai, è la mia casa! Non è la tua casa! Vieni, vieni! No, dove sei? Non ti vedo! Allora, io prendo la macchina, ciao! No, Anni! 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 Ok, dove andiamo? Allora! Io prendo una casa, ok? E tu vivi con me! Va bene? Ok! Ma ti togli dai mesi, però! Togli, via, via! Allora, ok! Oh, quale prima? Quale casa ti piace? Questa? No! Quella? Quale? Questa? No! Questa? No! Vai su! Questa! No! Con la piscina! Con la piscina! Ah, un'idea questa! La casa sull'albero! Sì, sì! La casa sull'albero! La casa sull'albero è molto bella! Attenta, ragazze! Ti voglio prendere in braccio! Non prendere in braccio! Non prendere in braccio! Ti voglio prendere in braccio! Allora, ecco la casa! Che bella! Dai, sali! No! Ma l'ombrello fa niente! Che se ne frega, andiamo! Ciao! La piscina! Dov'è? Non la vedo! Vabbè, che se ne frega! Ok, ciao! Allora, dentro! Andiamo! Voglio chiudere dentro! Non può, perché è casa mia! E posso chiuderla! Solo io! E io ne vado la casa tua! Allora! Non puoi più! Hai chiuso! Hai visto? Io vado! Ciao! Dove vai? Non puoi, posso capire dalla finestra! Ah, qui! Ma è chiuso! Ma è vero! No! No, 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 no! Giuseppe, vola a condino! Io mi sarò a costa! Ciao! Me ne vi cercare! Ok! Cercami! Allora, vediamo! Non si chiude! Non si chiude! Oh, no! Trova, hai dato con me! No, ciao! Io mi ne vado! Ok, conta! Io vado a contare! Ok, vai, conta! Conta! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! Undici! Dodici! Tredici! Quattordici! Quindici! Sedici! Diciasette! Diciotto! Diciannove! Venti! Vai, vai a trovarmi! Ok, sono in casa mia! Vediamo in casa mia se c'è qualcuno! No, è in casa mia! Vado in casa mia se c'è qualcuno! Vado in casa mia se c'è qualcuno! Eh, sono in casa mia! Dai, vai! Vado in tuo garage! Vediamo! Non sono nel garage! Ok, vado dalla piscina! Qua ho! Allora, dai, vai! Voglio vederlo dove sei! Sì, ecco! Sì, ecco! No, no! Mi sono lasciciata! E la piscina! Ok, è un'idea! Allora... Adesso arriva... Mi sono seduta! Beh, beh! Ma guarda, è il bel nascondino! Allora, Anastasia, andiamo a prendere un gelato? Sì! Cercami! Sono fuori! Ok, non so dove sei! Cercami! Ho detto che sei in piscina! Sì, sono in piscina! Mi piace la musica dance! Oppure un alieno mi piace! Dai, cercami! Allora! Mi sono buttata dalla finestra! Quella lì! Quella lì che è di te! No, l'altra! Quella lì! Vicino! Quale? Questa? Sì! Non puoi buttarti! Sì, posso! No! Allora, mi sono buttata! Io mi sono buttata da lì! Ho un'idea! Allora, qui si può aprire! Allora, qui si può aprire! Sono bastata dalla finestra! Ok, non si può più! Allora, andiamo! Apritevi! Ma no! Allora! È un'impiscina, ha detto! Qui c'è una telecamera! Non so, la vedo! Ah, mi sono buttata da lì! Non è vero! Da lì! Sì, da lì! Mi sono buttata! Uè! Ma non è vero! Sono in piscina! Oddio! Allora! In piscina! Ma... Mi sono la cossa! Dai, vero! È bella la piscina! Ma... Vi ho tirato una mano! Ma è uscita fuori! Adesso sono... Ok, andiamo a prendere il gelato! Io la voglio! Gelato! Gelato! Io cambio casa! Prendo la puma! Sono un'altra casa! E guarda, è casa mia! Ma non dovevamo andare a prendere il gelato! Non ti vedo più, sai! Ma dov'è casa? No, mi sono persa! Mi sono persa! Da te! Ah! Anni! Io! Andiamo a prendere il gelato! Ok, questa è casa mia! Anni! Ok, prendo la macchina! Io vieni! Vieni! Vieni a me la mia macchina! Posso guidare la? No, Anni! La vieni! Vai! Anni! No, no, no! Per favore! Ok, guida! Allora! No! Ok, la vado io! Sì! Io mi sono seduta! Allora, aspetta! Aspetta! Dai, però, sali! Aspetta! Un pochino problemini! Ok, allora! Guida! Aspetta che non... Aspetta, è casa mia! Vado con uno lo fa! Ciao! Vado a cavallo, ciao! No! Ma chi? Ma io non puoi... Sali! No! Ma dove sei a cavallo? Io me ne vado! Nani, andiamo in gelateria! Ok, dove hai gelato? Eh, qui! Ah! No, dove sei? Non ti vedo più! Vedi se sei così stupidina! Andiamo! Willa! Seguimi, ci sei? No! Ma come? No! Prendo la polizia! Ah, però muoviti con le macchine! Cioè! Ci sei? Ci sei? Dai! Sì! Sì, ci sono dentro casa del carcoro! Dai! Faccio! No! Allora! Ah! Ti vengo a prendere! Ci sei? Mamma mia! Fai il tuo cuore di strastro! Non posso andare! Ani! Eh! Togli la macchina! Togli la macchina! Togli la macchina! Ok, la so! Vieni dietro di me! Non posso! Vieni dietro di me! Non posso! Sì che... Allora, aspetta! Prendo cavallo! Aspettami che prendo cavallo! Madonna! Ma io sono riuscito! Dai! Prendi il cavallo! Prendi il cavallo! Lo prendo! L'hai preso? Non posso! Sì che vuoi! No! Eh! L'ho lasciato dire il mio cavallo! Dai a prendere il cavallo! Vabbè! Hai preso la bicicletta! Ho la bicicletta! Vieni! Ok, però sei più veloce! E vabbè! Dai! Ci sei? Ci sei? Sì, eccomi! Dove sei? Qui! Oh! Andiamo dai! Ci sei? Sì, eccomi! Andiamo! Ma la gelateria è qui! Allora... Ci sei? Qui! Dove la gelateria? È qui! Che bella piscina! Ani! Ani! Oh! Dai Ani andiamo! Ok, eccomi! Ma è sera? Eh sì, è sera! Non ti vedo più! Gelato! Trovato! Io non ti vedo! Eh vabbè, almeno lo mangio io! Ah, è lì! Sei lei? No, guarda! Dai! Scendi di qui e andiamo nel gelato! Buongiorno! Io faccio la pasta! La gelateria! Ho preso il cavallo adesso! Vabbè Ani, ci sei? Ok! Sì, arrivi! Buongiorno signora! Che gelato vuole? Frago, la panna? Non c'è! Oddio! Allora, io non sento... Ho favore! Cioccolato! Vai bene cioccolato! Ti voglio prendere il brazzo! Ok, dai! Ah! Vabbè! Fatelo da sola, va! Mmm, la panna mi piace tanto 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 la panna, la panna! Dai! Prenditene uno Ani! Ok! Di gelato! Schiaccia quello che vuoi e prendilo! Ok! Questo! A te vi piace quello... A te non ti piaceva quello... Il cecolato? Scusami! Io mangio quella la panna è molto buona! E voi ragazzi, quale vi piace di gelato? Scrivetelo nei commenti! Ah! Io ti voglio prendere il braccio! No! Ok! Allora! Andiamo adesso, sai dove? No! Oddio! Adesso! Aiuto! No Ani! Io mi prendo una casa! Ani! Ok! Dove? Allora andiamo alla parrucchiera! Ok, dov'è? Qui! Ah! Ok, davanti! Non posso prendere il cavallo! Sì! Allora, io mi faccio dei capelli belli, belli, belli! Mmm, che colore? Mmm, non lo so! Io li ho fatti i fucsia! Io li voglio fare i fucsia! No, così però! Che figata! Che figata! Mi ha fatto i bianchi! Mi ha fatto i bianchi! Sì, ma aspetta! Guarda il mio cappello! Hai visto che mi fanno i capelli! Ando! E basta! Allora! No! Ah, me li sto lavando! Mi sto facendo! Allora, la vai... Ma non vai neanche, vero? Vabbè! Ah, questo... Io mi sono fatti i capelli blu, adesso mi cambio! Vabbè, non so che cosa sto facendo! Ah! Ani! Vieni qua dove ci sono io! Sì! Dove sei? Lì! Sdraiati! No, sdraiati! Ecco! Ok! Lavo i capelli a questa signorina! Intanto io mi cambio! Io intanto mi cambio! Allora, adesso dove andiamo? A dormire! Ah, mi seguo mi! Sono un posto bellissimo! Allora, aspetta! Prendo una macchina e vieni con me, ok? Va bene! Poi mi cambio! Però... Sì! Vieni! 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 Allora, guarda, guarda, guarda! Nell'hotel! Ok! Allora, guarda, guarda, nell'hotel! E' chiuso! Aspetta! Casa gioco! Non voglio una... E' casa mia! Ok, grazie! L'ho fatta bene! Dormiamo, Ani! Ani! Dormiamo, Ani! Dormiamo! Eh, io non riesco a dormire! Io mi devo cambiare! Eh, ma io non riesco a dormire! Io ora ce no! Io non riesco a dormire! Sì, sì, sì! Vabbè, io mi dormo sulla poltrona! Guarda, ti faccio vedere! Mari, vedi questo, guarda! Sì, guarda! Vedi, vedi questa critta! Sì! Eh, chiacci! Ah, ma io non ce l'ho! Vabbè, magari si può solo a me! E' perché è casa tua, è vero! Allora, tu stai qui a dormire e io prendo un'altra casa, ok? Ok! Allora, quella vicino a te! Ok? Aspetta che trovo la mia casa perché non voglio più! Non c'è da brutte! Non c'è da brutte! Esco casa mia! Tenele prego, ok? Va bene! Chiudiamo casa, ovviamente, perché si entra qualcuno! Ah, libero! E' casa mia! No, è casa mia! E' casa mia! Hai visto? Io posso adesso con tu? Non mi distrega niente! Dai, vai a dormire! Io mi sono seduta in grado! Io dormo! Ok! Quando arriva il giorno! Io ci rendo l'attivo che non mi posso! Ok, io che so casa mia! Vediamo se c'è qualcuno! Sì! Bruccia sarà brutto! Bruccia sarà brutto! E' un tipo brutto! Ma anche bello! Ti prendo la luce! Per la notte! Vabbè! Ti è piaciuto! Ciao! Aiuto! Allora! Adesso una storia! Sì! Allora! Allora! No! Non mi chiusi! Guarda che chiudono! Aiuto! Ok! Andiamo! Ok! Andiamo! Qui, 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 qui! Guardi il motorino! Ok! Dove sei? Non ti vedo! Qua! No! Ah! Eccoli! Andiamo qua dentro mamma! Arrivo! Piove sai! Buongiorno! Allora! Ma perché sono così? Vabbè! Vorrei! Un panino! Bene! Un panino! Ce l'ha un panino! Ciao! Non ha un panino! Io vado con questa ragazza! Hai un panino però! Mamma mia! C'ho fame! Te lo faccio io! Grazie! Allora! Siete più! Da sola! Sai perché! Non neanche sto mangiando! Dai! Ma che vabbè! Cosa ho preso? Vabbè! Un pollo! Ho mangiato tutto! Certo! Io vado a casa mia! Però non so qual è! Ah! Una Edo! Vieni! Andiamo sola! Andiamo sola! Dove sei? Qual è l'aerio? È qui! Vieni! Mi vedi? Ah! Vabbè! Ah! C'è l'amulanza! E qui aster! Questa qui! Qua! Anni questa! Sì! Io vado l'amulanza! Ok! Vabbè! Io vado qua! Voglio andare in aereo! Per fortuna! Le vacanze! Per fortuna! Le vacanze! Quella è già vestita! Ma questo non è l'aerio! Ma questo non è l'aerio! Ciao! È un aereo! Entra! Ma che... Io sono andata con acqua ele! Sì! Io sono andata con raffaile! Dai vieni! Ma qua dentro? Sì! Entra! Ma non è vero! È la polizia! Ma entra! Ma dove? Entra! Questo? Sì! Anni! Anni! Guardami! Eh! Vedi? Polizia si è spesa! Allora ciao! Io vado! Vai via! Anni! Anni! Un'idea! Allora! Esci! 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 Sto scendo! Esci! Voglio vedere dove sei! Ah ma quello! Ma non potevi dire che c'era scritto Brookhaven! Sì andava nella polizia già! Allora vabbè! Mi vedi? No! Guarda! Ti vengo raggiunta! Ah ho capito dove è! Ho capito! È vicino al barco! Sì sì sì! Sì sì! Sì sì! Sì sì! Sì sì! Sì sì! Sono fatti anche il cappello! Ok io entro! Entra! Ma poi non c'è l'aereo! Sì è qui! Devi salire qui e poi ci puoi guidare! Sì! Se vieni! Arriva un attimo! È lì la porta! Buongiorno! Buongiorno! Ma le sentite dalla porta! Lo so! Io sono qui! Ok ciao! Lo so! Wellà! Patate e do what I get up! Oh! Andiamo! Ma perché c'è questa luce? Oddio! Eccolo l'aereo più davanti! Qua? Ah no qui c'è il bagno! E qui l'aereo! Vediamo! Ah! Ok dov'è l'aereo? Bello! Io prendo cattopino! Eccolo! Qui! No! Lo facciamo qui! Poverino! Aglio plano! Wee! Vai vola! Come un aereo! Allora! Manual! Io prendo una fia! Ma non c'è! Ma non c'è niente! Ma! Sessibilità! Oddio! Oddio! Siedi! 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 Andiamo! Vieni! No! Si può anche accendere il fuoco tra pochi giorni! Non sei pochi giorni! Accendere il fuoco! Ho preso questo! Oh cacchio! Cos'è? Cos'è? Io ho questo! Per l'accendere il fuoco! Sto schiacciando questa cosa dell'emergenza ma non fa niente! Però io lo vedo! E cosa cosa schiacciato? Emergenza! Che c'è da te? L'emergenza! Qua! Ok lo so! Puoi venire? Mi segui? No! Ci schiacci l'emergenza! Allora! Mi cappa la pipì! Non venire! No! Ciao! Allora! Si ma io voglio... Oh cacchio! Cosa? Ancora una scossa di terremoto! Dai ma io voglio che succeda qualcosa! Io non so più come uscire! Ma io di Emergenza è attivato! Qui non si esce più! No! Non si esce! Emergenza! Emergenza! Dove si esce! Ma io dove si esce! Dove si esce! Ah io sono uscita! Ciao! Emergenza! 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 Vani io sono uscita! Emergenza! Vani esci! Io sono uscita! No io no! Emergenza! 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 Dai però! Vani esci! Emergenza! Armino! Io sono uscita! Emergenza! Emergenza! Io sono uscita! Io sono uscita! Io sono uscita! Ma no! Emergenza! Emergenza! Io sono uscita! Ok rientro ciao! Poi uscire! Emergenza! Poi uscire! Andiamo via! via dall'aereo in emergenza ecco li 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 via libera ciao oddio salta che figata sei viva ma come hai fatto te ero in aereo e c'era una cosa scritta io l'ho fatto ho preso cacosatto la valigia ho preso salta vai per te oddio ragazzi piove io prendo l'ombrello io non posso prenderlo l'ombrello dove lo prendo ma se andiamo a rapinare in banca no manco nessuno io si banca ragazzi ma vado a rapinare in banca io so oddi guarda dove sei vani non lo so dai vani faccio una cosa che tu non dovrai mai fare tanto io sto più veloce aspetto ai cavalli ma io posso prendere in una macchina anche se non è mia si andamooo bella ciao ciao non va perchè non va avanti ciao vai avanti vai avanti guida no non guido ma perchè non va oh però eh voglio guidare ok vani io cosa mi mi lo devo cambiare da 10 secondi oh però è rosso ahhh verde no però non va più che pare ho un'idea allora io anni vado a prendere un gelatino ancora come di gelato tu intanto aspettami in caso ok io arrivo mi sto cambiando ah la 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 dai però non va neanche una maietta allora io vado a una nuova gelateria dicono che è una nuova gelateria dicono eh poi boh ah non va a una bella maietta che bella che bella questa nuova gelateria molto bella questa nuova gelateria gelateria wow io mi cambio i capelli così la prossima si infatti nuova gelateria ah ecco qui posso cambiare i capelli da non guardare grazie ma allora questa nuova gelateria è molto buona si certo vorrei che i capelli hanno preso ehm non li voglio più e non li voglio più ho detto che non li voglio più capito allora io vado ragazzi dove sono gli occhiali faccio occhiello con gli occhiali pelata guardate qui sono pelata Giovanni se io metto dentro questa ce l'ho si ok guardate questa qui blu dentro guardate sto pensando Vani che adesso te non sai chi sono perchè mi sono cambiata ma non i soldi non voglio i soldi forse qui non volevi rubare i soldi della banca nooo perchè ma secondo te Vani io mi sono cambiata dove sei? non ti vedo ma io Vani Vani ehm vieni da me un attimo che sto giocando guarda chi sono io io sono lei ehm allora va bene voglio dire la verità sto andando a rapinare in banca Vani io ti vengo a rapire no io so già come si apre con una nuova scheda Vani sai cosa sto facendo adesso? vediamo oddio adesso se io apro qui è esplodito ok vedete con questo 3 2 1 ah occhio ok 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 soldi 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 Vani io ti sto volendo per tirare a casa ma nemmo attira picco sai perchè sto prendendo tra una pistola devo ah ok oddio un'altra bomba un'altra bomba così facciamoci sentire da tutti un'altra bomba bomba rrrr oh dio dai Vani sai chi si è entrato via 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 si ma non possono entrare perchè io ho preso la scheda ehm che bel cappello vero si ma andiamo a uscire prima che mi scopri ci scopro eh si non si può uscire Vani dove l'hai covato te la finestra me lo dici? ehm non lo so eh ok esci via 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 con i soldi con i soldi con i soldi via blindfold allora via 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 andiamo dove li possiamo andare lo so aspetta a vedere se c'è un bambino anche se non lo prendo cambierò e infatti non pensavo che c'era un bambino guarda ma ci sono duelei bambini piccoli bambini però non posso prendere non saranno neanche miei vabbè allora ragazzi io non so perché non puoi prenderlo perché? ma aspettate i soldi soldi sai perché? hai cinque cose allora non lo puoi prendere ah ma Vane io mi son pezza ma no no ragazzi no Vane vieni finiamo il video allora ragazzi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel pollicione in su quindi ragazzi se volete un altro video su Roblox scrivetelo nei commenti scrivete anche qual è il vostro gusto preferito del gelato un grande bacione ciao 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 ciao